Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico anche questa puntatona dal colore di retrocomputing oggi parleremo di Apple IIc Reference Manual dunque, Apple IIc è stato il primo Apple II semiportatile computer facilmente trasportabile praticamente un home computer però fu anche venduto come un computer diciamo del business computing per quelli che volevano un computer semiportabile ossia facilmente trasportabile andiamo adesso ad esplorare l'Apple IIc Reference Manual Apple IIc Reference Manual sono due i manuali volume 1 e volume 2 e li andremo a esplorare tutti e due dunque Apple IIc Reference Manual è un po' la versione diciamo identica a Apple II Reference Manual ci troveremo tutta una serie di informazioni tecniche per quelli che volevano approfondire i dati della macchina a un livello più profondo la macchina dell'Apple IIc era il primo abbozzo di computer portatile non era proprio un vero portatile per come lo intendiamo noi oggi era facilmente trasportabile fu posizionato come home computer ma fu anche venduto nel segmento business andiamo a vedere diciamo questo Apple IIc Reference Manual sono tenendo presente che c'è anche il manuale di Apple IIc e è simile al manuale di Apple IIe che era una merda di manuale dove non c'era scritto proprio poco o nulla quindi non c'era niente di linguaggio mesi che non c'era praticamente nulla le differenze quelle con l'Apple IIc manuale utente è che c'era praticamente un'infarinatura dell'integrato Apple Works 3x3 oltre a una migliore definizione di cosa era un computer in modo un po' più approfondito rispetto a quanto scritto nel manuale dell'Apple IIe che era propriamente da bimbi dell'elementare anzi prima elementare o ultima dell'asilo andiamo a vedere quindi esplorare questo Apple IIc Reference Manual versione ovviamente inglese eccolo qui che cosa conteneva? primo capitolo introduzione memoria e organizzazione del relativo controllo poi andiamo a vedere che cosa intendevano quindi praticamente come era gestita la memoria introduzione alle periferiche di input e output di Apple IIc la tastiera e lo speaker quindi la cassa acustica video display uscita diciamo del video dell'Apple IIc l'unità di input e di output del disco che era in bundle con la macchina porte di entrata e uscita 1 porte di entrata e uscita 2 il mouse e l'input dello spinotto per il gioco per il joystick l'utilizzo del monitor che era un assemblatore il ROM identico praticamente a quello che poi si trova su Apple IIe implementazione dell'hardware un indice poi nel secondo volume abbiamo lo spazio del 6502 mappa della memoria locazioni importanti per quanto riguarda il firmware sistema operativo e linguaggi l'interroute Apple II e le varie differenze per Apple II informazioni su modelli americani tavole di conversione firmware, glossario, bibliografia e quant'altro ecco, sono circa 247 pagine le vedremo tutte in modo molto molto rapido ok, veniamo un po', volume 1 passiamo oltre tanto erano due questo è già l'indice del primo quindi possiamo passare a prefazione passiamo oltre rapidamente introduzione eccolo qui questo è quando si aveva la macchina la giggino che è una specie di aggino la guanta computer ma che faceva anche una maniglia per trasportare la tastiera eccola qua se non vado errato non vorrei dire una minchiata c'era anche la versione italiana dell'Apple II mi sembra che avesse la M quindi un layout della tastiera italiana perché la Apple era solita localizzare le tastiere per i paesi ma non vorrei dire una minchiata non ne sono proprio sicuro vediamo un po' qui nel manuale americano la M è qua giù in fondo la tastiera è americana va bene i vari tasti funzione che erano relegati l'uscita per la cuffia che era monofonica ma comunque c'aveva l'uscita cuffia una novità con il relativo volume tanta roba diciamo tipica di un portatile moderno piccolo particolare di un portatile moderno poi c'aveva il disk drive da 5.25 ecco qui cosa c'erano i vari spinotti c'era l'alimentazione poi c'era l'uscita praticamente per la porta connettore 1 la prima seriale poi c'era il connettore per il disk drive che era questo questo era l'uscita video per i video dell'Apple una seconda uscita video un altro connettore poi un'altra porta seriale e poi uno spinotto per il mouse e il pulsante dell'accensione e poi c'era praticamente ovviamente questo spinotto qui è quello praticamente dove ci va lo spinotto elettrico dell'entrata della potenza dell'alimentatore che però l'alimentatore era esterno ecco qui si vede una macchina con il disk drive collegato dentro l'alimentatore esterno non c'era spazio per mettercelo dentro ecco questa è la scheda madre dell'Apple 2C che aveva 128k di RAM il microprocessore e era già dotato di due super serial perché era già predisposto per pilotare sia modem che stampati mentre i proprietari di Apple 2 le interfacce delle super serial se le dovevano comprare quindi diciamo questo era già un computer più moderno questo è lo schema del funzionamento del computer al diagramma di flussi memoria di mappa questa era come era allocata praticamente la memoria con due banchi perché il microprocessore 6502 indirizzava solo 64k e altri 64k erano utilizzati con tecniche di bank switching vari indirizzi indirizzi di accesso ecco bank switching memoria qui spiegava appunto che per indirizzare i 128k si utilizzava tecniche di bank switching e quindi spiegava in che cosa consisteva il bank switching con degli esempi locazione di pagine e quant'altro veniamo un po' altre cose sempre come veniva spiegata diciamo l'utilizzo della memoria che però comunque il basic Apple software indirizzava 64k i 128k venivano automaticamente sfruttati pienamente sia da Apple 2C che da Apple 2E quando si faceva girare l'integrato Apple Works che praticamente lavorava con le 80 colonne e voleva 128k e quindi praticamente sfruttava al massimo la macchina diventando un potente strumento per la produttività personale per il web processor database e spreadsheet quindi un valente strumento sia per lo studio che anche per gli eventuali professionisti qui ho spiegato tutte le varie tecniche di switching della memoria che mi ho utilizzato va bene era possibile espandere diciamo un pochino l'Apple 2C con delle schede speciali fino a 256k ulteriormente aggiungendo altri 256k con un'esprazione studiata apposta dalla Apple Ed Engineering che anche quella praticamente lavorava sempre sul bug switching va bene qui spiegava praticamente tutte le varie tecniche le varie pagine le impaginazioni le routine di reset come funzionavano ok poi abbiamo l'introduzione all'Apple 2C che cosa c'è vediamo un po' altro di importante l'utilizzo vabbè i tasti il tasto ESC vediamo un po' era molto simile all'Apple 2 anche se c'erano delle differenze non di poco cominciare dalla RAM e da una tastiera differente gestione dell'interru poi entrambe le due macchine non pienamente compatibili i caratteri della tastiera vabbè l'uscita dello speaker che abbiamo visto l'uscita video queste erano le specifiche che poi interessavano il formato testo varie locazioni caratteri speciali che già c'erano di caratteri speciali che ricordavano un po' quello che c'era su Macintosh o su Commodore 64 che erano caratteri di testo semigrafici la versione per l'80 colonne eccole qua qui veniva spiegato il funzionamento dallo switching 40-80 colonne le modalità grafiche a bassa risoluzione alta risoluzione 8 colori va bene altre cose vediamo cosa c'è qui c'è la pixelatura dei pixel e del video va bene se ne ha spiegato supporto delle routine presenti nel firmware locazioni da invocare per utilizzare diciamo alcune routine che erano già presenti in RAM eccolo qua e poi utilizzo del disco il disco praticamente era semplice da utilizzare le porte seriali caratteristiche dello start ovviamente quando si agganciava della roba una nuova stampante questa chiaramente come tutte le macchine del tempo andava fatta a freddo chiaramente macchine spente poi successivamente si accendeva ma comunque era tutto plug and play perché veniva immediatamente visto e riconosciuto c'erano eventualmente dei jumpers da settare dei deep switch questo però nell'apple 2 nell'apple 2 era già tutto di serie si attaccava allo spinotto della stampante o di un modem e si era già a posto senza stare incasinarci troppo eccolo qui se ci si agganciava un monitor via si agganciava un modem o un accoppiatore acustico e si era a posto si agganciava la stampante e si era a posto quindi non c'era praticamente deep switch da settare per utilizzare e configurare diciamo l'interfaccia con la con l'arbre di uscita la stampante era già tutto plug and play diciamo si era proprio plug and play l'unica cosa che andava fatto a macchina spenta chiaramente altre cose mi sa che qui stiamo andando verso la fine della prima parte link per scaricare apple 2c reference manual lo trovate in descrizione utilizzo del monitor il monitor era l'assemblatore si entrava con carmeno 151 eccoci qua e si incominciava a vedere che c'era l'asterischino l'asterischino era per il prompt del monitor il maggiore era dell'integer basic parentesi quadra era per le tastiere americane dell'applesoft o se no c'era la e accentata che era l'equivalente del font italiano commutato nella parentesi quadra chiusa che era il prompt dell'applesoft va bene scarico della memoria muovere blocchi di memoria comandi che venivano qui che devono essere dati il monitor la funzione principale del monitor era che disassemblava anche questa è la cosa più importante che interessava perché in esadecimale una roba così non ci si capiva un cazzo ovviamente dalle locazioni invece disassemblando andando a disassemblare da una locazione aggiungendoci un L un blocco di numeri e lettere in questo modo venivano disassemblati e si poteva osservare il codice del 6502 va bene eccolo qua aggiungendo un L si aveva si incominciava a disassemblare il codice e si vedeva qui si caricava l'accumulatore con la roba che è qui qui si salta alla praticamente alla routine di questa qui poi si utilisce il carry qui si fa una somma di questa roba qui si fa il confronto e poi si ritorna alla relativa routine chiamata va bene se vi interessa trovate c'è anche il link del Apple 2 guida all'uso e programmazione del 6502 se volete espandere questi temi che erano due libri che praticamente andavano bene anche per questo poi c'era da aggiungerci eventuale appunto il manuale di riferimento di ogni macchina qui c'era lo schema del funzionamento del microprocessore il suo diagramma a blocchi con la memoria l'interfaccia e quant'altro diciamo che questo era dato a parte mentre nel manuale del Commodore 64 tutta questa parte qui veniva data e regalata da Commodore e quindi non si pagava magari gli utenti non la guardavano nemmeno comunque era una cosa positiva per la data dice l'Apple questi ci fa pagare tutti non ti dava nulla ti dava un Debian dove ti diceva che dovevi comprare altre cose va bene qui ci sono altre informazioni vado veloce perché c'è due manuali da vedere schemi elettrici delle varie spinotti e quant'altro le pedinature degli spinotti dei dischi la gestione dei Pio per quanto riguarda la stampante delle Supercellular e dei disk drive va bene passiamo velocemente va bene mi sa che fra pochino siamo arrivati alla frutta del primo volume qui c'è la circuiteria va bene la circuiteria poi c'era un indice della prima parte del manuale dell'Apple 2 eccolo qui ok passiamo Apple 2C reference manual volume 2 via continuiamo a bomba la nostra esplorazione in questo viaggio nel passato passiamo direttamente qui si salta direttamente tanto l'indice l'abbiamo già guardato precedentemente che cosa c'è qui che ci aspetta il microprocessore 6502 eccole qui informazioni vediamo che cosa c'era qui ci abbiamo l'appia di natura di nuovo il ritorno al diagramma dei blocchi del computer le caratteristiche il funzionamento dei vari pin caratteristiche quindi fisiche elettroniche ed elettriche proprietà fisiche va bene ed elettriche ecco l'architettura del microprocessore con i vari registri accumulatori lo stack pointer registro x registro y il contatore di programma appunto lo stack pointer e lo status register vediamo un po' che cosa c'è segnali descrizioni memoria microprocessori codice del microprocessore qui c'erano le istruzioni del microprocessore che però non venivano spiegate in modo molto dettagliato qui venivano soltanto date vediamo un po' se poi veniva spiegato anche il linguaggio macchina pagina 3 vediamo cosa c'è pagina dell'hardware vediamo un po' locazioni importanti per quanto riguarda il firmware da invocare queste erano locazioni da poter invocare che c'era roba in rom per cui a cui rivolgersi per fargli fare determinate cose questo è importante per gli sviluppatori perché indubbiamente c'erano già procedure già fatte senza stare a scervellarsi c'erano già queste locazioni da invocare da sfruttare per fare cose sistema operativo del linguaggio prodos mi sa cpm qui non dice assolutamente niente qui mi porta che può funzionare con queste cose ovviamente superficiale interroppo del firmware va bene apple 2 serie differenze ok vediamo la vista qui c'è l'apple 2 plus cosa c'aveva l'apple 2 plus andiamo a vedere in specifico l'apple 2 c'aveva la rom che si accendeva la macchina e già buttava apple soft ce l'aveva in firmware e poi c'aveva 48k di ram apple soft firm però diciamo se ci si metteva la scala da 16k poi c'aveva una versione vecchia del monitor e poi c'aveva l'integer basic che era in firmware mentre l'apple 2 e l'apple 2 plus che cosa avevano avevano tutte e due praticamente la language card da 16k io veramente la language card non l'ho mai vista quindi questa circuiteria della language card che la davano di serie all'interno del 2 plus poi l'avevano inserita dentro la scheda madre dell'apple 2 poi ci si poteva mettere la scheda 80 colonne c'era il software della diagnostica con chiaramente mele piene e mele vote nel 2 plus poi c'era vabbè una codice una tastiera asci decente con maiuscole e minuscole erano stato migliorato alcuni pannelli per i giochi e poi era possibile metterci 64k di espansione oltre altre schede sull'apple 2 plus con il connettore aux che cosa c'era con apple 2c e apple 2e erano ovviamente due macchine quasi identiche la differenza principale è che apple 2e aveva la scheda 80 colonne già di serie e ci aveva già due super serie già dentro e poi ci aveva il disk drive già in bando mentre il 2e non ci aveva praticamente nulla bisognava comprarci il disk drive esterno e metterci in relativa interfaccia da piazzare nello slot e poi bisognava metterci la scheda di espansione 80 colonne oppure si comprava come fesce una scheda dell'apple ed engineering 80 colonne più 64k per portare l'apple 2e a 128k cosa che il 2e invece aveva già tutto di serie poi se ci avevi mettere una stampante sul 2e dovevi prenderti una super serial con la stampante mentre nell'apple 2e bastava comprare una stampante attaccati eri già a posto la differenza è che l'apple 2e era un'architettura aperta era possibile metterci più schede di espansione all'interno anche schede sonore schede di digitalizzazione ramworks ramfactor e quant'altro per potenziare il lavoro con appleworks mentre con apple 2e ovviamente computer chiuso c'era poca possibilità di espanderlo se non con alcune limitate schede dell'apple engineering fino con un massimo 256k da cui aggiungerci su 128k poi non era possibile farci altro perché chiaramente è una macchina chiusa però erano pienamente compatibili e praticamente questo è quanto vediamo un po' tipo di cpu alcuni avevano i più vecchi apple 2 apple 2 plus avevano il 6502 quelli più nuovi usavano il 65c02 che era una forma ridisegnata del comos della cpu con diciamo 27 nuove istruzioni in più e quindi praticamente questo è quanto ma comunque erano uguali con perfettamente compatibili poi la forma della memoria 64k oppure 128k le periferiche altre cose vediamo un po' che cosa c'è i monitors per quanto riguarda i monitors più o meno erano gli stessi le ultime versioni del 2e e del 2c erano ovviamente identiche non cambiava niente le differenze ci furono tra apple 2e e apple 2 plus poi da apple 2e enhanced su 2 plus li mangiavano la pappa in capo e c'aveva tantissime variazioni in più e poi il 2c che praticamente riprendeva le stesse cose del 2e ma erano state più compattate a cui era stata aggiunta più memoria e delle super serie già di serie facendo una macchina trasportabile in modo molto facile controlli del mouse ecco non era possibile metterci il mouse qui senza c'aveva già tutta l'interfaccia mentre sull'apple 2e ci dovevi mettere un'altra interfaccia per pilotare il mouse e comunque non servivano a nulla perché praticamente il sistema operativo il dos e il pro dos era una linea di comando c'era l'interprete basic l'unica cosa il mouse lo si poteva sfruttare con apple works che il cui software era già disposto per un utilizzo del mouse anche se c'aveva le finestre erano finestre testuali di testo sotto le 80 colonie ma comunque erano finestre testuali e non a linea di comando va bene tastiere standard c'erano caratteri speciali per le varie delocalizzazioni vediamo un po' questa è questa è una tastiera semplificata probabilmente per caratteri speciali da qualche parte vediamo un po' c'è una WB cose strane chissà cos'è la questa semplificata per il QRAC chissà cos'è c'è layout della tastiera americana layout della tastiera inglese tastiera canadese chissà stato anche poi layout testiera tedesca ecco tastiera italiana eccola qua è vero quindi c'erano gli Apple 2C nella versione italiana quelli italiani avevano la tastiera italiana con la M accanto alla L e la Z quindi era una QWERTY a tutti gli effetti identica il layout a quella dell'Apple 2E nella modalità italiana va bene ok poi c'erano le altre localizzazioni con i vari paesi e poi mi sa che c'erano delle altre tabelle qui c'erano le tabelle cosa c'erano binario pesa decimale ma c'è poca roba varie informazioni grafiche periferiche numeri periferiche codici di conversione ad 8 bit codici asci e poi mi sa che siamo arrivati alla frutta poi c'erano un listato ma chi vuole lo guardasse questo listato qui è possibile scrivere tutta questa roba da chiodi cioè proprio forse ne ha stato aggiunto così per dare un'occhiata al codice perché mi ammetti da battere tutta questa grigia mi ammetti da sentisi male finiamo un po poi che cosa c'è c'è il firmware che viene i listati del firmware bene bene era possibile darci un'occhiata alle varie procedure quello che faceva spiegavano pezzi di rom disassemblati quindi praticamente questi si trovavano in rom però diciamo l'avevano già disassemblati messi sotto sotto testo per darci un'occhiata ecco non erano da ricopiare ho detto una minchiata scusate va bene veniamo un po altre cose io vado veloce perché tanto questo è apple 2c reference manual parte 2 parte 1 l'abbiamo già vista se volete ve li potete scaricare trovate il link in descrizione sono su archives o anche da altre parti qui c'è un glossario che non fa mai male e poi mi sa che fra pochino siamo arrivati alla frutta bibliografia che eventualmente si poteva comprare un indice di quello che era stato trattato fino ad ora e poi mi sa che siamo proprio veramente sì alla frutta ok per questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima ciao